E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, qui è Pablo Giallo Rosso, finisce qui la seconda andata, diciamo perché ieri ha giocato l'Inter con il Napoli per questa Coppa Italia, ieri non ho fatto il post partita perché ero occupato, io dico vabbè oggi mi guardo la partita e ne parliamo insieme perché è successo veramente di tutto, sono tante le cose di cui parlare, quindi ho visto che stiamo crescendo tantissimo con il canale, quindi vi invito ad iscrivervi, se ancora non siete iscritti, se siete iscritti accendete la campanellina, E' vero che sto facendo pochi video ultimamente, però tempo al tempo, però ovviamente di questo ci interessa zero perché se no viene Valeri e mi ammonisce, però meno male che sono romanista, non del Milan e quindi forse la sanzione me la riesco a evitare per questa volta, perché che succede? Che Valeri tocchi i palla e ti ammonisce, alcuni interventi sono stati giusti, anche alcuni sanzioni, però non è possibile, cioè allora, boh io rimango incredulo secondo me alla punizione data di Brejmovic, il discorso non è che io sto qui a a fare il complottista anche perché sono romanista, quindi dici che te frega a te del Milan con la Juve, però da esterno onestamente alcune decisioni mi hanno lasciato perplesso, non è che io sto qui a dire beh il Milan è stato penalizzato dall'arbitro, però capisci che a volte se ti vengono ammoniti proprio palesemente per ogni contrasto, giocatori che stanno in diffida per il ritorno, boh non è che sto a far complottista perché non me frega niente, sono romanista, quindi a me che passi la Juve o il Milan frega zero, penso solamente nella squadra, però capisco che se fossi un tifoso milanista sarei un po' sbroccando, infatti sto notando che sui social alcuni tifosi milanisti non hanno preso bene questa scelta, ma più che altro mi voglio concentrare su un episodio in particolare, non tanto sulle munizioni che vanno poi a diffidare alcuni calcioni come i Brejmovic, ovvero i giocatori chiave di questo Milan, perché oggi il Milan ha fatto una buona partita, ha continuato la striscia positiva cominciata con il termine, nonostante lì il Milan abbia perso, nel primo tempo ha messo in atto un ottimo gioco, oggi ho visto un ottimo Milan, con Rejvic che sta in un periodo di forma incredibile, il Milan stava persino neanche al 97esimo minuto praticamente, parliamo però dell'episodio fondamentale, quello su cui questo video si basa, il rigore concesso alla Juve, allora, io purtroppo sto qui dicendo che con le nuove regole quello è calcio di rigore, non sto dicendo che quello è calcio di rigore netto, sto dicendo che con il nuovo regolamento quello può essere punibile, quel fallo di mano, ora, questo regolamento può essere giusto o sbagliato che sia, punti di vista, ok? Però quello che a me dà fastidio è che il regolamento viene applicato equamente nel corso delle varie partite, perché ieri abbiamo visto un rigore non concesso durante l'Inter Napoli, praticamente uguale, se non forse anche peggio, diciamo, ok? Tra virgolette, poi ci sta la soggettività, anche la visione relativa del direttore di gara, però il regolamento deve essere adottato equamente nel corso delle partite, quindi io posso pensare se tu ieri non mi hai dato quel rigore, perché oggi me l'hai dato? Questo è che mi fa arrabbiare, che non viene preso il regolamento in modo, non voglio dire onesto, perché se no sembra che la gente lo faccia in mala fede, io mi auguro che non esista la mala fede in queste situazioni, però capisci che possono girare anche gli attributi, no? Perché vedi delle circostanze simili sanzionate in modo diverso nelle varie partite, e questo secondo me può andare a compromettere poi quelli che possono essere i risultati, no? E lo svolgimento anche del torneo, perché dico, ma scusa, ma a me è successa una cosa più grave, oppure è successa una cosa simile, e non me l'hai sanzionata a quelli invece a fine partire praticamente da un rigore così, che stravolge i piani, perché io stavo pure fuori casa, non so se ci sta ancora la regola del gol fuori casa, perché si parlava di levarla, no? Il discorso è questo, il Milan che secondo me stava portando a casa un risultato giusto, per quello che si è visto in campo, sarà che a me la Juve non mi sta convincendo quest'anno, nonostante io ci ho preso le pere, eh? Però non è che qui sto parlando da romanista, sto parlando da amante del calcio, da uno che vede una partita e vede delle circostanze, ok? Da tifoso. E io rimango così, scioccato, perché quello è un rigore che tu puoi anche non dare, soprattutto perché circostanze simili non sono state punite. E questa è la pecca. E' questo di cui io voglio lamentarmi. Ma perché questo, come è accaduto al Milan, come è accaduto ieri durante l'Inter Napoli, come magari è accaduto in altre partite, sono casi molto frequenti. E quindi bisogna trovare una conformità nelle valutazioni. Perché non ci sono delle valutazioni eque. Gli arbitri interpretano al modo loro il regolamento, perché io posso dire che quello per il regolamento è il calcio di rigore, e devo stare zitto, perché effettivamente, praticamente si viene a pulire qualsiasi tocco di braccio dentro l'aria. Però onestamente, ora, levando il regolamento, per me è quello un rigore ridicolo. O questa è la mia visione. Quindi di quello di cui mi voglio lamentare non è l'interpretazione dell'arbitro, ma è come viene adottato il regolamento. Questo è il mio pensiero. Ok? Ora si deciderà tutto a ritorno, quando il Milan avrà la gioia di non avere a disposizione il giocatore di chiave, o a Milan che sta in crescita. E questo è inevitabile. Cioè, è veramente inconfutabile. Allora, se questo video posso finire qui, lascio un like, un commento, iscrivetevi. Papo Giorno Rosso è tutto. Adios.